Finora non è stato riconosciuto in modo adeguato a questa amministrazione che nonostante l'epicentro della crisi economica, perché voi mi avete fatto prima una domanda sul governo, quindi una domanda che riguarda il Paese, se c'è un terremoto nell'economia reale del nostro Paese, Napoli è l'epicentro di quel terremoto, perché è la città cavia, laboratorio che ha aderito alla legge sul predissesto e noi non abbiamo licenziato una persona da due anni e non abbiamo chiuso un'azienda nonostante ci fosse il rischio concreto di doverla chiudere. Questa è una cosa che noi ci auguriamo, la città, i media, i sindacati riconoscano, perché se la situazione economica non migliora non è detto che questo successo, questo risultato, questo obiettivo possa rimanere per sempre. Di fronte a questo noi ci rendiamo conto che il momento è di particolare crisi. La crisi non dipende dalla ZTL, sabato pomeriggio ho girato a piedi la città, era stracolma di persone, di turisti, di cittadini, di gente alla provincia, molti camminavano per strada, qualcuno entrava nei negozi, molti altri no. C'è una crisi, alcuni negozi vanno bene, altri vanno bene, le trattorie sono pieni, i ristoranti sono pieni, evidentemente c'è voglia di socialità, sono scelte, è un momento di crisi economica. Però prendiamo atto che in alcuni punti della città ci sono delle sofferenze anche regate a una mobilità che in parte non dipende nemmeno dalla nostra volontà. Il crollo della riviera di Chiaia è un evento gravissimo, una tragedia che ci ferisce, qualcuno sta speculando su questa cosa e non è bello, perché io dissi che un'immagine che mi era piaciuta molto al momento del crollo era l'unità della città e non si specula su queste cose. Quindi questo aspetto ci dispiace, invece noi capiamo che il momento è di particolare difficoltà, ci sono anche esigenze di residenti che hanno particolare difficoltà di andare da una parte all'altra. Da un lato non dobbiamo rinunciare al nostro progetto di città, ma non perché è un capriccio, perché riteniamo che sia utile la città. Quindi che cosa? Il lungomare liberato, chiamato dalla città, dai turisti e dalle persone che vengono, il centro storico più vivibile, tant'è che in questo provvedimento aumenteremo le isole pedonali del centro storico, le isole pedonali in ogni quartiere, perché non esiste solo Chiaia, con tutto il rispetto non esiste solo Chiaia, ecco perché è importante Secondigliano, è importante Ponticelli, è importante Via Epomeo, però nello stesso tempo andiamo a correggere quegli aspetti che non hanno funzionato bene finora. Noi abbiamo ascoltato in questi mesi, tantissimo, io in particolare moltissimo negli ultimi giorni, cittadini, cittadine, associazioni, categorie di commerciali, ritengo e mi sono convinto, e di questa scelta mi assumo personalmente la responsabilità, ci sono opinioni diverse, ma alla fine la sintesi cerca di trovarla il sindaco, in una città dove ognuno si sente sindaco, e giustamente ha le sue opinioni, bene, è bello così, che la ZTL del mare fu all'inizio pensata quando non c'era il lungomare liberato. Il lungomare liberato è una scelta strategica e noi manteniamo, quindi appena noi avremo il via libera sulla mobilità nella riviera di Chiaia, noi elimineremo, sospenderemo, in attesa che il trasporto pubblico migliorerà e che ci auguriamo la linea sedia, Arcomirello e Piazza Repubblica, venga terminata, i due blocchi di Via Acton e San Nazaro. Li specifico anche perché? Perché Via Acton, soprattutto per un effetto psicologico, anche perché qui debbo dire anche chi aveva interesse a comunicare un po' meglio per far arrivare le persone alla nostra città, non l'ha comunicato bene, perché non è che là c'era ZTL e H24, c'era fino alle 14, alle 14 e 30, quel blocco di Via Acton può scoraggiare anche solo psicologicamente le persone dalla provincia a venire nella nostra città, così come il blocco di San Nazaro crea difficoltà soprattutto ai cittadini di Posillipo e di Fuorigrotto. Quindi noi proviamo, mi sono consultato con la Polizia Municipale, abbiamo fatto dei tavoli, proveremo in questa direzione. Secondo aspetto, in primavera, e qua ho chiesto l'aiuto a ICAS, ConfCommercio, Confesercenti, Camera di Commercio, Confindustria, tutti quanti, non è possibile che le autorimesse private costino così tanto, quindi bisogna mettere in campo immediatamente, io l'avevo già chiesto mesi fa, delle convenzioni per chi viene, posteggia e non può essere salassato. Si trova il modo di trovare una convenzione, un protocollo, tutti insieme, in modo che chi arriva posteggia la macchia o a Napoli Park, autorimesse private e può circolare liberamente, così come stiamo lavorando. E devo dire, finalmente ho trovato un ascolto più concreto da parte delle categorie, perché poi quando si fanno le trattative si richiede reciprocamente, è quello delle navette. Noi dobbiamo immediatamente mettere in campo delle navette che partano quantomeno dai tre punti di ingresso della città, Porto, Parcheggio Brin e Stazione Garibaldi, che fanno avanti e indietro tra Piazza Dante, Via Duomo, Centro Storico, Piazza dei Martiri, Lungomare e portano le persone. Questo non solo adesso che ci sono eventi, sempre. Questo a nostro avviso è decisivo. Così ci siamo resi conto, soprattutto per ragioni di sicurezza serale e anche di mobilità, che vada mantenuto il progetto strategico di Via Duomo e Piazza Dante, ma che si debba dare qualche correttivo. Quindi noi apriremo con una corsia dedicata ai motocicli. Corsia dedicata, quindi viene garantita la sicurezza dei pedoni, delle biciclette, di tutte le altre persone e daremo un'apertura serale e notturna al transito generale. Abbiamo ottenuto, è un altro risultato che ho fortemente voluto, che dal venerdì alla domenica, dalle 22 alle 2 di notte, ci sia un presidio fisso della Polizia Municipale su 8 punti strategici della città. Questo è fondamentale perché noi dobbiamo evitare che Piazza Dante e Via Duomo diventino come è stato per un periodo, e un po' in parte anche ora via Pietro Colletta. Cioè che è terminata la ZTL, che dava vivibilità e dà vivibilità forte, quindi la ZTL rimane con dei correttivi, diventa poi un momento di scorribbande e quindi ci vuole il controllo effettivo sul territorio. Un altro aspetto che rilancia l'economia, perché l'economia, i miglioramenti della ZTL serviranno soprattutto ai residenti, magari un correttivo forte della ZTL possa mettere in moto veramente l'economia. Noi invece crediamo di mettere in campo altre iniziative. Nei prossimi giorni approveremo la delibera sulle reti d'impresa e soprattutto un'idea che io ho fortemente voluto e sulla quale devo dire che ho trovato ostacoli certe volte assolutamente incomprensibili da parte di alcuni della macchina comunale. Sull'occupazione di suolo pubblico. Io penso che una vela rivoluzione è facilitare e migliorare la concessione del suolo pubblico della nostra città agli operatori commerciali ed economici. Mi spiego. Mi dicono, è come la storia delle associazioni, dei beni da dare alle associazioni contro la Camula. Sindaco non lo puoi fare perché non ti pagano il canone. Il profitto non è solo quello della controprestazione economica diretta. è anche un profitto sociale, è anche un profitto economico indiretto. Allora là l'abbiamo vinta. Adesso voglio vincere anche quest'altra sfida in settimana. Noi concediamo con varie tipologie di occupazioni suolo pubblico. Per operatori commerciali, economici, culturali, sociali. Alcuni ci pagheranno cash, bene, perché preferiscono. Altri faranno altre cose. Io ti concedo davanti alla gelateria il suolo pubblico. Tu mi devi fare lo spazzamento, mi devi mettere i tavolini fatti bene, e non con le scritte di pubblicità, non voglio fare pubblicità perché sono televisioni. Di decoro urbano, mi metti le aiule, mi sistemi, mi organizzi il territorio. Quindi un riappropriarsi del suolo pubblico da parte di tutti. Questa è una delibera che faremo e dedicheremo un ufficio pubblico solamente all'occupazione immediata del suolo pubblico. Quindi chi aderisce al protocollo del Comune in 30 giorni, 60 giorni, avrà tutte le autorizzazioni che verranno immediatamente revocate qualora poi non si rispetti. E sarebbe interessante anche prevedere, visto che c'è crisi, nel momento in cui noi riusciamo a dare a chi vuole dare. Quindi questa è una controprestazione per il bene comune della nostra città, che magari possa assumere pure una persona. Perché io dico, piazza Dante, gli operatori, occupatela quella piazza, chiedetecela, trattorie, librerie. Quella è la vera sfida. Allora, siccome finora noi abbiamo avuto resistenze, forti resistenze, abbiamo deciso di romperle queste resistenze, come le abbiamo rotte per le altre cose che voi ci state seguendo. Perché noi non andiamo avanti se non rilanciamo l'economia dal basso della nostra città. Quindi questo, credo, in estrema sintesi, ma anche con un po' più di articolazione finalmente, di aver dato dei segnali importanti, concreti. Oggi, tra oggi e venerdì, tutto questo sarà messo penna su carta. La città vive un momento di difficoltà. Il sindaco ha dato la dimostrazione di volersi aprire, sempre di più, ascoltare, magari anche far cambiare idea a qualcuno che magari giustamente aveva delle tesi anche più rigide, però è opportuno che l'ascolto, la partecipazione, il dialogo e la forza di volontà, perché molte di queste cose che ho detto non dipendono solo da noi, potevano farle anche altri che non l'hanno fatta. Quindi oggi è venuto il momento di darci maggiormente la mano. Un bel segnale in un momento in cui la città sta in difficoltà, ma anche in ripresa, perché la città è piena di turisti che la categoria, la Confucommercio, Ascom, che hanno indetto la serrata, non dico che la revocano perché sarebbe un gesto assolutamente apprezzato, moltissimo, da me almeno la sospendano per verificare come noi stiamo lavorando nell'interesse di tutta la città, cercando di trovare un punto di equilibrio. Perché vi vorrei far leggere tutte le mail delle persone che ci hanno scritto non togliere la ZATL, togli la ZATL, ognuno dà delle proposte. Mettetevi nei panni di un sindaco che deve trovare un punto di equilibrio in una città così complessa. Se lavoriamo con una maggiore solidarietà e una maggiore fratellanza cittadina nell'interesse comune, io credo che anche i momenti di difficoltà diminuiranno. Insomma la serrata alla fine non serve alla città, non serve ai commercianti. Quindi sono atti concreti che stiamo facendo nell'interesse di tutti, non solo dei commercianti. Io ho fatto una valutazione complessiva e mi auguro che il punto di equilibrio trovato sia il più accettabile, se non lo sarà ci miglioreremo ancora di più.